Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione. Benvenuti all'ascolto di Innovator's Talks. Sono Angela Tumino, direttrice della Management Academy alla Polini World School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. In questo episodio parliamo di carbon neutrality e in particolare delle strategie che le aziende possono mettere in atto per ridurre o compensare la loro impronta sul pianeta. Negli ultimi anni infatti le problematiche relative al cambiamento climatico hanno portato a sviluppare una nuova sensibilità nei consumatori, negli organismi governativi e anche nelle aziende. Oggi proveremo a capire qualcosa in più su questo fronte e a discutere cosa possano concretamente fare le aziende per diventare carbon neutral. Per approfondire il tema abbiamo qui con noi Andrea Zuanetti, CEO e cofondatore di Up2You. Ciao Andrea e benvenuto a Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione. Ciao Angela, grazie a te dell'invito. Andrea, Up2You è una startup che ha l'obiettivo di incentivare azioni sostenibili, aiutando così le aziende a diventare carbon neutral. Ecco, nello specifico, qual è l'esigenza da cui nasce Up2You e che cosa vi proponete di fare? Sì, guarda, noi ci siamo affacciati a questo mondo da un paio d'anni perché ci siamo accorti di un tema. Se tutti ormai appunto da questo paio d'anni abbondante sono d'accordo sul fatto che la sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico siano dei temi importanti, siano dei temi su cui bisogna agire, quello di cui ci siamo accorti è che in realtà molti dicono benissimo, ma io cosa posso fare, cioè che ruolo posso avere, che contributo do, magari con la mia piccola azienda che sviluppa software, che non è uno dei grandi emettitori ultranoti. Non posso fare niente fondamentalmente, non ho nessun feedback del mio agire. E noi nasciamo proprio per cercare di superare questa difficoltà e permettere a tutti di capire che cosa ognuno di noi ci può fare, proprio da qui nasce il nostro nome che è Up2You, cioè farti capire che è un po' state il futuro di questo pianeta, dipende da te e anche tu che non sei magari il capo di stato del G7, puoi avere un impatto concreto e quindi cerchiamo di dare un feedback, che poi è un feedback positivo, cioè cerchiamo di rendere molto concrete le azioni che ognuno di noi può andare a fare nel privato, ma anche e soprattutto negli aspetti lavorativi e rendendole concrete gli diamo gli strumenti poi per misurare il proprio impatto, misurare che cosa si va a fare di positivo e averne poi un ritorno. Quindi noi accompagniamo le aziende su tutto il percorso dal calcolo delle emissioni, alla riduzione di queste emissioni, alla compensazione delle emissioni, quindi gli aiutiamo proprio a diventare carbon neutral, quindi ad azzerare completamente l'impatto che si ha all'autocambiamento climatico e poi a comunicarlo in maniera efficace, perché ovviamente noi parliamo con clienti che sono business, quindi devono a fine mese far quadrare i conti e quindi devono assolutamente, dopo che hanno agito, questo è molto importante, non prima, devono comunicare in maniera efficace per dare una sostenibilità anche economica al progetto e per diffondere le buone pratiche che hanno messo in piedi. Questo diciamo in estrema sintesi quello che andiamo a fare. Ecco, abbiamo parlato di carbon neutrality, ma perché un'azienda dovrebbe diventare carbon neutral? Sono chiari i risvolti etici, l'impatto sociale di tutto questo, ma ci sono anche altre motivazioni che possono spingere le aziende a muoversi in questa direzione? Assolutamente sì, e io guarda sono abbastanza diretto su questo tema, cioè i motivi etici, uno io mi auguro che tutti li sentano, in Up2You li sentiamo, siamo ormai una trentina di persone e mi auguro che tutti e trenta, i miei collaboratori, lo sentano ed è importante. Ma in realtà quando si parla in ambito business, questi passano paradossalmente in secondo piano, perché io sono un grande fan di B Corp, non so se chi ci ascolta lo conosce, è una certificazione che si ottiene, che si può ottenere per appunto dimostrare di avere un impatto positivo sul pianeta, non solo in termini ambientali, ma anche in termini sociali e di governance, e il loro motto è no margin, no mission, cioè non bisogna avere vergogna di dire io lo faccio anche perché ne ho un ritorno di questa cosa, perché? Perché se io sono un business e opero in un mercato, o ne ho un ritorno economico delle mie azioni, o vado fuori mercato, se io lo faccio solo come liberalità, quindi considero solo l'aspetto etico come una donazione, non lo posso fare in maniera importante perché i fondi destinati alle liberalità sono una parte diciamo molto piccola dei bilanci, non posso avere un impatto concreto. Quindi è fondamentale avere un ritorno da queste attività. Quali sono questi ritorni? Prima di tutto rispondere a una richiesta del mercato. Noi quando abbiamo lanciato App2You abbiamo pensato sicuramente chi è più interessante, chi è più interessato a quello che andiamo a offrire, a diventare carbon neutral, saranno le aziende B2C perché i consumatori con le loro scelte guidano l'agire delle aziende. In realtà ci siamo accorti che è solo parzialmente vero, nel senso che sì, tutto il mondo B2C ha una forte pressione, ma anche il mondo B2B, le grandi aziende stanno mettendo una fortissima pressione sulla loro supply chain per andare a selezionare dei fornitori che siano sempre più sostenibili. Perché? Perché alle grandi aziende è sempre più richiesto, proprio a livello regolatorio, di farsi carico, di assicurarsi che anche i loro fornitori siano sostenibili. Quindi c'è un vantaggio di presenza sul mercato, ci sono dei vantaggi fiscali che stanno sviluppandosi, che possono essere sconti, detraibilità, deducibilità dei servizi di carbon neutrality e poi c'è un tema importante di attrattività dell'azienda nei confronti dei giovani talenti soprattutto, perché sempre più persone questionano, si fanno delle domande prima di accettare un posto di lavoro, prima di cercare un lavoro. Se fino a qualche anno fa i driver erano fondamentalmente due, cioè la potenza del brand, chiamiamola così, quindi andare a lavorare per un brand noto e lo stipendio, adesso questi due temi si vedono affiancati, perché ovviamente non sono spariti, ci mancherebbe, non è che la gente non chiede la RAL prima di accettare un'offerta di lavoro, ma si vedono affiancare un nuovo tema che è quello dell'impatto dell'azienda, del brand. Quindi andarsi a posizionare come un player attento ai temi di sostenibilità, che agisce sui temi di sostenibilità, è un posizionamento forte per poi andare ad attrarre e trattenere persone valide, che sempre più si fanno questo tipo di domande. L'ultimo aspetto è quello proprio prettamente regolatorio, c'è una roadmap molto chiara di qui al 2030 che andrà a chiedere sempre più performance di sostenibilità, di rendicontare queste performance di sostenibilità di qui al 2030 a sempre più aziende. Ecco, hai fatto riferimento alle persone, alle persone che lavorano all'interno dell'azienda e voi nel relazionarvi con le aziende che supportate, infatti non vi limitate a parlare all'azienda nel suo complesso, al top management, ma le vostre attività hanno proprio l'ambizione di coinvolgere le persone che fanno parte dell'azienda. Come lo fate e quanto è importante il coinvolgimento anche a livello individuale? Assolutamente, per noi è molto importante questo aspetto del coinvolgimento, come lo concretizziamo? Abbiamo sviluppato insieme a quello che vi ho raccontato fino adesso, quindi tutta la parte diciamo diretta di aiuto al calcolo delle emissioni, alla riduzione delle emissioni, alla compensazione eccetera, abbiamo sviluppato anche un altro software che si chiama planet, che serve proprio a coinvolgere le persone. Questo si basa su che assunto? Sul fatto che io non posso far entrare la sostenibilità solo come un aspetto di compliance, non posso e soprattutto non voglio. Perché? Perché la sostenibilità può diventare, lo accennavo anche prima, una leva di coinvolgimento dei dipendenti. Può essere un terreno comune su cui l'azienda e i dipendenti si ritrovano e diciamo fanno sinergia, si indirizzano dalla stessa, guardano dalla stessa parte, si indirizzano nella stessa direzione. Quindi abbiamo sviluppato questa piattaforma che sostanzialmente permette alle aziende di lanciare al proprio interno delle sfide, delle gare di sostenibilità. I dipendenti si registrano sulla piattaforma, trovano queste sfide, le compiono, quindi scoprono temi come la mobilità sostenibile, la riduzione delle emissioni digitali, che è un tema enorme, questo qua delle emissioni digitali, perché è letteralmente invisibile, si pensa sempre appunto all'aereo, alla macchina, al grande impianto produttivo, ma in realtà le emissioni digitali sono molto rilevanti e ognuno di noi può agire per ridurle. Quindi tutte le sfide su questo tema riscuotano sempre un grande successo. Come vi dicevo prima, appunto i dipendenti si registrano, compiono queste sfide imparano qualcosa in maniera positiva, quindi non è il corso frontale che magari è un po' noiosetto il videocorso, ma è qualcosa di interattivo, è qualcosa di divertente. Per usare un inglesismo abbiamo gamificato la sostenibilità, cioè l'abbiamo resa un po' e questo permette appunto di coinvolgere le persone, che poi è un ritorno concreto anche in termini di emissioni, perché una forza lavoro attenta è una forza lavoro che emette meno, che permette all'azienda di emettere meno, quindi è una vera e propria attività di riduzione. Questo è il nostro approccio su il coinvolgimento delle persone che riteniamo veramente importante, per poter raggiungere gli obiettivi poi che ci si è dati. Grazie e grazie ad Andrea Zuanetti, CEO e cofondatore di App2U, che ci ha aiutato in questa puntata a capire meglio le sfide legate alla carbon neutrality e anche le opportunità che possono nascere su questo fronte per le aziende. Ciao Angela, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Continua a seguirci e a vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito gsom.polimi.it slash innovatorstalks22 oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Angela Tumino e dalla Polimi Graduate School of Management. Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione. Grazie a tutti.